A kiss for you. Antonella Clerici, addio alla prova del cuocco, tutta la verità sul suo futuro in tv Antonella Clerici, l'amatissima conduttrice della prova del cuocco, come lei stessa ha raccontato, da giugno 2018, scaduto il contratto con la Rai, potrebbe dire addio alla conduzione del suo programma cult in onda quotidianamente su Rai 1 per nuovi progetti sul piccolo schermo E. Antonella Clerici, la bionda ammatissima conduttrice della prova del cuocco su Rai 1, si è raccontata in un'intervista esclusiva al settimanale Oggi e ha raccontato qualche dettaglio circa il suo futuro professionale, a giugno 2018 scadrà il suo contratto con la Rai e quali sono i desideri e i progetti di Antonellina?. Ho una mia idea spiega alla Clerici dedicarmi al prime time e a qualche seconda serata, recuperando il mio mestiere di giornalista e tralasciando la quotidianità della prova del cuocco. Questo è il mio progetto con la Rai, bisogna poi vedere se la Rai vorrà avere un progetto con me. Ma ho tantissime offerte, con il mio agente Lucio Presta valuteremo tutto. Certo, io sto alla Rai come Totti alla Roma. Fedele nei secoli. Se l'azienda dovesse avere programmi diversi, si cercherà un compromesso. E se non sarà possibile, prenderemo in considerazione altre proposte e altre reti. Antonella, dopo la storia finita con Eddie, il ballerino con il quale ha avuto la piccola Maelle, ha trovato l'amore accanto a Vittorio Garrone e proprio a proposito del suo compagno tra le pagine del settimanale svela di volersi avvicinare a Milano, lì nei paraggi vivono anche mio padre e mia sorella. Forse già da settembre oppure rimanderemo ancora un po'. Secondo me tutto si deciderà entro giugno, con la scadenza del mio contratto. Ancora c'è tempo per scoprire se l'apprezzata conduttrice dal sorriso sempre acceso, sceglierà di lasciare davvero la prova del cuocco, programma che ha condotto per diversi anni, e se approderà in prima serata. Ancora c'è tempo per scoprire se l'apprezzata conduttrice dal sorriso sempre acceso, sceglierà di lasciare davvero la scoprire se l'apprezzata conduttrice dal sorriso sempre acceso, sceglierà di lasciare davvero la scoprire se l'apprezzata.